Buongiorno signora, buongiorno, buongiorno signora, buongiorno, buongiorno signora, come Buongiorno signora, 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 buongiorno signora Salve, buongiorno, 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 buongiorno signora, San Rocco è presente, è presente, come sempre, Uta è presente, poi anche voi Uta? Uta, 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 e poi ci sono tutti gli altri. C'è già scambio con team? Con il nostro amato presidente, il nostro vice, il nostro vice, il nostro vice, lo scopro adesso. A dopo, salve. Grazie. 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 Facciamo il tutorial come smontare l'alvaro dell'alvaro. Secondo me questa è la fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. Luca? Grazie. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. La fase 2, andremo incontro a una affidatura esagerata. Ma lo stai guardando quello con telefonia? Grazie a tutti.